Ciao a tutti, video velocissimo per farvi una comunicazione per me molto importante e di cui sono molto felice, cioè mi hanno scelta per partecipare a un programma di Latree, si chiama Tutorial il programma, praticamente è un programma dove vengono mostrati tantissimi tutorial presi dal web di vario genere, fai da te, cucina appunto, io rientrerò nella diciamo sezione cucina e quindi da il prossimo lunedì, quindi lunedì 8, comincia questo programma Tutorial che sarà in onda da lunedì al venerdì alle 17.30 e ci sarò anch'io, però io comparirò per la prima volta non lunedì ma mercoledì 10 appunto alle 17.30, quindi di volta in volta poi durante i video del lunedì vi dirò quando ci sono, perché non ci sono sempre, insomma ci sono tantissime persone e quindi diciamo si alternano, io comparirò appunto con la mia prima video ricetta mercoledì 10 alle 17.30 e se viva guardatemi potete vederlo questo programma Latree, Tutorial sulla 3, su Sky, per quanto riguarda Sky sul canale 163 e per quanto riguarda il digitale terrestre il canale 134, quindi ecco potete vedermi, vi ho dato tutte le info così se vi va vi potete guardare e è un programma a votazioni, votazioni che si svolge su Facebook, quindi se vi va, se vi piacciono le mie video ricette e vi va di votarmi, vi lascio il link in descrizione nel box informazioni dove cliccate, vi si apre la pagina e voi mi cercate, ci sono tutte le icone con i quali profili delle persone, voi cercate le dolcezze di video ovviamente e se vi va e cliccate sul codicino e mettete mi piace per votarmi. Oggi sono molto felice di questa cosa, sono contentissima, cioè non me l'aspettavo, infatti quando l'ho saputo sono rimasta così. Insomma non sarà niente di che ma per me è importantissima questa cosa, sono felicissima. Quindi ripeto, dal lunedì al venerdì alle 17.30 tutorial e il primo episodio dove ci sono io, mercoledì 10 alle 17.30. Vi scrivo tutto in solo impressione e nel box informazioni, soprattutto nel box informazioni vi metto il link per la votazione se è attesa di farlo ovviamente, nessuno è obbligato. E nulla, ci vediamo alla prossima videoricetta e sulla 3 con tutorial. Vi do un grosso bacione, ciao ciao!